Salve a tutti! Oggi vi mostro la compilazione del quadro RV del 2023 riferito al 2022. Avevo già fatto un video l'anno scorso della mia prima compilazione del quadro RV, potete vedere il link qui sopra, e fondamentalmente non è cambiata più di tanto la compilazione, direi che è sempre la stessa. Nel mio caso non ho bisogno di compilare il quadro RT perché non ho fatto nessuna plusvalenza, in realtà sono completamente in perdita e poi i miei sono veramente pochi spiccioli, non superano neanche i 2000 euro. Allora, dobbiamo andare nell'agenzia delle entrate e entrare con il nostro speed. Clicco su accedi all'area riservata ed entro con il mio speed. Ora non vi mostro questo passaggio e andiamo direttamente all'interno. Ed eccomi nella mia area riservata. Anche voi dovreste vedere la stessa schermata, ovviamente con il vostro nome. Tenete presente che il 730 l'abbiamo compilato online, quindi non siamo andati a nessun caffo, nessun commercialista. Perciò potrebbe cambiare qualcosa. L'anno scorso molti mi hanno chiesto, ma non riesco a vedere, non riesco a trovare. Può essere che la procedura è leggermente diversa se il 730 non l'avete compilato voi direttamente online. Comunque, diciamo che il 730 è staccato dal quadro RV. Infatti il quadro RV è possibile compilarlo entro il 30 novembre, perciò eventualmente si è da ancora in tempo. Io mi riduco quasi sempre all'ultimo momento, però diciamo che non c'è questa fretta. Anche perché non ho fatto plusvalenze, anzi sono completamente in perdita, come ho detto prima. Quindi non ho problemi di quadri RT o altre cose, tasse da pagare, nulla. Il mio è solo un monitoraggio. Vado a cliccare dichiarazione precompilata e qui vado su accedi alla tua dichiarazione. A questo punto vado a cliccare su dichiarazione inviata. Vedete? Per visualizzare, correggere o integrare la dichiarazione, cliccare su dichiarazione inviata. Vado su redditi aggiuntivo e correttivo integrativo. Clicco sopra ed ecco qua che mi esce fuori redditi aggiuntivo e correttivo integrativo. Qui abbiamo redditi aggiuntivo, tra parentesi, quadri, rm, rs, rt, rv, d. Non so nulla di tutto ciò. Cioè io conosco solo l'rv e vabbè l'rt perché sono andato a spulciare, a leggere come funziona. Ma non vi so spiegare esattamente il resto. Ricordatevi, l'ho scritto anche in descrizione, che non sono commercialista, non ho studiato economia. Queste sono cose che vi mostro, sono quello che faccio io personalmente. Mi sono studiato tantissime documentazioni in giro e sono arrivato al punto di riuscire a compilare il quadro rv per conto mio. Però vi ricordo che non supero tot da dover poi compilare anche il quadro rt. Perciò non ho plusvalenze, non ho problemi di tasse varie. Il mio è solo un monitoraggio. Perciò se siete anche voi nella stessa situazione, a posto così. Provate a chiedermi se avete qualche dubbio. Se riesco a rispondere, mi fa piacere. Altro non so che dirvi. Come ho detto altre volte, se avete tanti investimenti in cripto, affidatevi a un commercialista, perché comunque la cosa diventa complicata. E rischiate di cadere in sanzioni. A questo punto clicco su redditi aggiuntivo. Se è sicuro di voler compilare una nuova dichiarazione di redditi aggiuntivo, faccio ok. A posto. Ecco quello che esce. Come l'anno scorso, vado a cliccare su quadro rv. Ed ecco qui i quadri che posso compilare. Ce ne sono diversi perché io potrei compilare, come vi ho spiegato nel video dell'anno scorso, tutti i vari exchange, per esempio, o i vari portafogli, tutti suddivisi. Quindi io ho solamente Binance e Cripto, perciò potrei mettere qua Binance, qua Cripto. Tutto il resto lasciarlo vuoto. È la stessa cosa. Io metto tutto insieme, perché veramente sono spiccioli. Allora, cominciamo. Tanto molti parametri sono uguali per tutti. Quindi, primo punto uno, proprietà. Non c'è niente da spiegare. Mettete proprietà, punto. Due. L'anno scorso, se non mi sbaglio, non l'avevo compilato. Forse era diverso, non saprei. Comunque, sono andato a studiarmelo un po' in giro. Vabbè, due. Titolare effettivo, perché se no siete un delegato, ma generalmente titolare effettivo sono io a posto. Tre. Dovete andare a cliccare su 14. Altre attività estere di natura finanziaria. Le Cripto sono queste, quindi dovete mettere 14. Ricordatevi che stiamo parlando di Cripto, non di investimenti diversi dalle Cripto. Codice stato estero, lasciate perdere. Vuoto. Quota di possesso, dovete mettere 100. 6. In questo caso, valore di mercato. Ed ecco qui i punti più importanti. Il 7 e l'8. Valore iniziale e valore finale. Fate attenzione, perché da qui si capisce se avete delle plus valenze. Perciò, se ci sono delle plus valenze, non sarà solo monitoraggio. Nel mio caso, sì. E adesso ve ne accorgete, perché vi mostro i valori reali. Allora, valore iniziale. Tenete presente che l'anno scorso io ho iniziato. E ci sono due interpretazioni che sono rimaste invariate, diciamo, a prescindere dalla legge. Cioè, o mettete 0, nel caso avete iniziato, e poi valore finale al 31 dicembre. Oppure, nel valore iniziale, come ho già fatto l'anno scorso, che era la prima volta che effettuavo il monitoraggio, non ho lasciato 0 io. Ho messo tutti i bonifici fatti durante l'anno. L'anno scorso era il 2021, cioè, era riferito al 2021, quindi io ho messo tutti i bonifici dell'anno. E mi era uscita un tot di valore iniziale, ora non ricordo quant'era. Perciò quest'anno al valore iniziale, io inserisco il valore finale che ho messo l'anno scorso nel quadro RV, che era 823 euro, più i bonifici effettuati durante il 2022. Nel mio caso, 199 più 1000, in pratica, 2822. L'altra interpretazione, come vi ho detto già prima, è inserire solamente il valore finale dell'anno scorso. Quindi, 823, metto 823. La fine, secondo me, entrambe le interpretazioni possono andare comunque bene. Se un giorno poi vi chiamano, avete magari tutto da parte, quindi screenshot, eventuali formati Excel, di tutta la movimentazione dei vari exchange, e non avete problemi. Nel valore finale, semplicissimo, quello dovete mettere il valore preciso che avete dal 31 dicembre 2022, quest'anno che è il 2023, riferito al 2022. Io ho effettuato degli screenshot, e ho scaricato anche degli Excel, dato che ho solo Binance e Crypto, uno più l'altro, ecco fatto, ho trovato il totale, che nel mio caso, come potete vedere, è in perdita. Sarebbe 1041,27, perciò lascio così, 1041 in difetto. Come potete ben capire, si evince che non ho fatto nulla, anzi, sarei minus valenza, credo, detta da le leggi italiane, però, non so neanche bene, come farla funzionare, sta cosa, perciò, rimango così, faccio finta di niente, monitoraggio, punto, chi se ne frega, ho perso i soldi, rimangono là, fermi, infatti, non ho più effettuato bonifici, basta, non faccio più niente, quello che è, se poi negli anni cresce qualcosa, bene, altrimenti, pazienza. E andiamo avanti, qui, non dovete compilare nulla, lasciate tutto libero, il 18, dovete compilarlo solamente, se avete avuto delle plus valenze, nel caso di plus valenze, dovete andare a cliccare su, compilazione quadro RT, non è il mio caso, e non vi saprei spiegare altro, su quello, perciò, si passa direttamente, a cliccare solo monitoraggio, perciò, se non avete plus valenze, dovete cliccare, 20, e lasciare solo monitoraggio, questo punto, avete terminato, andiamo sotto, vi lasciamo tutto, invariato, e clicchiamo su, salva, ora che abbiamo salvato, andiamo a cliccare su, calcola, stampa, e invia, leggete bene, tutto quanto, dalla dichiarazione, non emergono crediti e debiti, prendo visione, esprimo il consenso, e clicco su invia, a posto così, possiamo andare su, dichiarazione inviata, e scaricarla, e questo è tutto, io vi ricordo, che non sono un consulente finanziario, quindi, prendete il tutto, con le dovute precauzioni, se avete grosse somme, mi raccomando, rivolgetevi a dei commercialisti, non fate per conto proprio, però, se avete, le competenze, perché no, io vi ringrazio tanto per l'attenzione, mi raccomando, iscrivetevi qui sul mio canale YouTube, magari anche su TikTok, e anche sul mio canale Telegram, dove ogni tanto aggiungo, delle offerte di Amazon, tanto mi trovate facilmente, Giulio Anelli, tutto attaccato, mi trovate dappertutto, un saluto a tutti, e ci vediamo, ai prossimi video.